buongiorno buongiorno a tutti allora benvenuti benvenuti a questo canale iscrivetevi condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete scaricate l'app di un football che vi lascio in descrizione vi da info notizie aggiornamenti potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore andiamo verso una serata perché c'è milan roma che commenterò e vi invito ad attivare il campanace ma in generale verso una settimana come dicevo nel video di oggi abbastanza pregna perché c'è la coppa italia c'è la champions si gioca praticamente ogni sera giusto così però non riesco a fare le live e quindi faccio dei commenti sparsi diciamo sul campionato il lunedì in base a quelle che sono le le situazioni più le situazioni più esiziali da commentare e le novità più gustose di giornata allora volevo un attimo concentrarmi sulla lotta scudetto partendo dal vertice allora la juve io vi ripeto non ho antipatia verso pirlo ve lo giuro nel senso che a me questa cioè la sua idea di juve per certi versi anche mi intriga mi intriga l'idea di una juve con la difesa 3 col 3 4 1 2 con con le ali offensive alcune scelte sono rivedibili perché secondo me bernardeschi e culuseschi non sono delle ali a tutta fascia quello che un po mi perplime vi ripeto è la reazione dei giornalisti che tendono a difendere sempre comunque a parlare di sfortuna ad avere fiducia clima che l'anno scorso non c'era però è indubbio secondo me che anche fisiologicamente l'anno per le concorrenti e ve l'avevo detto sia questo e non lo scorso perché se guardiamo la juve dell'anno scorso aveva quattro punti in più di questa la juve tanto bistrattata dello scorso anno e attenzione io non dico neanche che era merito di sarri c'erano anche altre situazioni proprio probabilmente c'erano dei giocatori che avevano iniziato l'anno con più sicurezze c'era la conferma di uno schema che la juve aveva adottato da più anni c'era magari più gente a disposizione del tecnico però io penso che tu hai preso in panca un esordiente a meno che questo non sia mandrache dovrà fare dei fisiologici errori quindi è logico che è meglio per le concorrenti quest'anno rispetto a quello scorso o ai precedenti e questo l'anno in cui la lotta scudetto può aprirsi come vi scrisse nel mio diciassettesimo libro quella previsione estiva al mare se non l'avete letto leggetelo tutti questa è la situazione e ci sono tante squadre che possono inserirsi perché ogni domenica c'è una squadra che viene feccata e una che magari emerge questa domenica qui per esempio c'è stato un rilancio di inter e lazio vedremo stasera milan e roma e per esempio il napoli tra la partita scorsa e questa inizia a mostrare insomma che non è proprio una macchinaccia perfetta scusate tra questa partita e quella di coppa che non è proprio una macchina senza problemi analizziamo squadra per squadra la juve vi ho detto secondo me è una squadra forte sulla carta resta comunque la favorita ma gioco forza può avere delle cose in cui la si può sfidare di inserirsi con successo l'inter è una squadra comunque molto forte che deve un attimo registrarsi deve un attimo ricalibrarsi deve un attimo magari riassettarsi però c'è il milan se stasera vince pone una candidatura pesante se il milan stasera vince il milan è una squadra perché finora anch'io stesso ma anche la critica penso la si vede un po' come sì una squadra che nelle sette sorelle c'è però non è nella primissima fila diciamo di questa lotta se il milan dovesse vincere stasera anche e inizia avere una continuità inizia avere una presenza inizia anche ad avere un allungo in vetta verso delle rivali importanti che sì siamo ad inizio campionato però se il milan dovesse vincere stasera magari anche convincere e inizia ad essere comunque la candidatura che c'è comunque una candidatura per il primo posto che c'è oltretutto in questi giorni vi faccio anche un video su un'operazione di calciomercato per il milan con cotanto di pinda race men giant se dovesse vincere la roma la roma rientra a pieno titolo in quel in quel tipo di squadre lì tra le sette che possono avere possono usufruire di qualche sorpresa di questo campionato così livellato discorso sul napoli napoli per me ha un'ottima rosa un ottimo rooster come dicono i bagliazzi però deve un po secondo me scrostarsi di dosso quell'idea che un po tipo da braccino del tipo sia una squadra forte una rosa forte però non è che sono proprio la favorita quindi anche se pareggio di qua perdo di là magari non sono continuo va bene lo stesso no se napoli vuol fare il salto di qualità deve imporsi deve chiedere a se stesso deve pretendere da se stesso di avere lo stesso ruolino di marcia di un inter di una juve quando ingranerà cioè il napoli ecco il napoli ha ancora un deficit di mentalità che deve acquisire deve acquisire la mentalità da grande squadra pretendendo da sé dalla dalla sua continuità e dai suoi risultati un ruolino di marcia da squadra di vertice quando farà sto step mentale che magari è derivato anche dal fatto che i nuovi si devono ancora magari ben inserire amalgamare napoli potrà essere una delle favorite l'atalanta invece io non condivido i disfattismi e le visioni che ho sentito in questi giorni dopo dopo la sconfitta con la samp l'atalanta spesso ha iniziato campionati un po' balbettando poi nei gironi di ritorno ha spesso asfaltato la concorrenza ha fatto delle fiammate che l'hanno portata quasi al vertice anche l'anno scorso io sono convinto che l'atalanta avrà una sua ripresa buona che possa avere la testa un po' più sulla champions ci può stare però ripeto l'atalanta ha la forza per poi non deludere neanche in campionato sto discorso qua piuttosto lo amplifico un po' sulla lazio perché penso e spero anche per quella famosa previsione che la lazio in champions possa andare anche discretamente lontano e che quindi il campionato possa accompagnare solo per certi versi o comunque magari non fare proprio un campionato diverticissimo però ragazzi è un bel campionato aperto c'è sta Sampdoria che sta facendo anche bene mi piace Ranieri sono contento per lui Sampdoria ha fatto un calciomercato un po' strano fino agli ultimi giorni poi ha fatto due colpi molto buoni che sono Keita e Candreva comunque una squadra da tenere d'occhio ci sono due neopromosse come Spezia e Benevento che comunque non stanno demeritando specialmente lo Spezia a livello di gioco c'è questo Crotone che ogni domenica mi lascia un po' sospeso perché è una squadra che gioca una squadra che fa possesso una squadra che che fa divertire comunque però ha un organico per la serie a un po' un po' leggerino capito anche se un po' mi comunque resta Spop vi ripeto Roma Crotone e Milan sono comunque Spop quindi vediamo cosa accadrà io questo Crotone voglio continuare a seguirlo il Parma sta avendo delle difficoltà perché comunque vi ripeto a mio avviso non ha fatto sto gran calciomercato a parte Cipri anche può essere interessante ma non l'abbiamo visto finora mi pare ma in ogni caso paga anche uno scotto tecnico perché è una squadra che viene da anni di gioco di contropiede e giustamente anche Liverani dice che c'è bisogno di tempo e per il resto vi ripeto io al vertice mi sento di dire questo mi sento di dire che è un bel campionato un campionato aperto in cui c'è un gruppo di squadre che si contendono veramente delle posizioni un enorme range di posizioni perché si va dal primo al settimo posto circa e se la Juve avrà un primo anno di Pirlo davvero e proprio noviziato nel senso che potrà avere delle difficoltà potrà fare degli esperimenti anche se questa cosa degli esperimenti perdonatemi non è non è propriamente vera fino in fondo perché ci sono anche altre squadre che hanno cambiato allenatori ma che non hanno sperimentato cioè con tutti i suoi limiti il Torino per esempio ditemi se sbaglio ha una sua idea di calcio di formazione che sta portando avanti dalla prima giornata fino alla fine anche il Cagliari di Di Francesco che comunque voglio aspettare perché Di Fra mi deve convincere diciamo non sono un convintissimo però va detto che ha cambiato allenatore ha cambiato anche buoni elementi della Rosa ma non sta sottorrendendo voglio dire cioè non è non è solo Pirlo che non ha avuto tempo per lavorare con la squadra che non ha avuto modo che lo penso anche per esempio ad Atalanta Atalanta e Inter che sono le squadre che sono andate più avanti in Coppa anche loro hanno avuto una preparazione ridotta per l'essere andati avanti in Coppa però voglio dire tra alti e bassi bene o male non è che stanno sfigurando no quindi ecco questa cosa qui della Juve io penso che sia derivata da alcuni limiti della Rosa che c'erano anche l'anno scorso e ci sono anche sto anno in certi reparti sicuramente è una squadra che deve prendere l'amalgama però anche delle scelte tattiche dell'allenatore che spesso vedo mettere giocatori un po' fuori ruolo poi c'è sta c'è sta intrusione di elementi che erano nell'Under 23 che pure mi intriga perché vedere un Vrioni fra botta sta gente che gioca con la Juve un po' di curiosità interesse ce l'hai però insomma l'anno scorso non c'era tutta sta intrusione ecco e quindi anche gli esperimenti eccessivi secondo me non è che sono obbligati cioè io credo che nessuno obblighi Pirlo a giocare con i Vrioni con i fra botta o a mettere Bernardeschi esterno a tutta fascia o Kuluseschi a tutta fascia cioè non so quanti altri allenatori in Italia farebbero una scelta del genere tanto per essere chiari e tranchante quindi che la Juve sia un po' un laboratorio è un dato di fatto per istituzioni oggettive per suoi demeriti ci sono altre squadre che possono inserirsi e questo è l'anno e questo è l'anno vediamo come andrà comunque è un bel campionato è un bel direttore ditemi cosa ne pensate un caro salute se volete fatemi pure domande che vi rispondo